buona giornata amici da massimo foghetti oggi lunedì 31 gennaio 2022 iniziamo insieme una nuova settimana che ci conderà poi a febbraio un mese che doveva essere il mese del carnevale purtroppo sarà un carnevale in sordina dato che la manifestazione già iniziata con la festa di sant'antonio abate si protrarrà insomma in forma ridotta ma vediamo subito qual è il santo del giorno perché oggi è un santo particolare un santo molto conosciuto è san giovanni bosco san giovanni bosco è nato da una famiglia molto povera siamo nel 1800 entrò in seminario e fu ordinato sacerdote nel 1841 quando in italia e un'europa insomma cominciavano a fomentare segni di rivolta impressionato dallo stato di abbandono di tanti ragazzi di tanti bambini del suo a torino riuscì a radunarli in un pezzetto di terra e di una casa che aveva acquistato con tanti sacrifici appena fuori di torino e pur contando sulla divina provvidenza riuscì veramente a radunare tanti tanti ragazzi durante la sua vita fondò la congregazione religiosa di san francesco di sales e per le fanciulle istituì le suore di maria ausiliatrice tra i suoi ragazzi merita un accenno san domenico savio perché anche lui fu posto agli onori degli altai e vediamo ora le previsioni del tempo vediamo che questa mattina il sole sorge alle 7 e 25 tramonta alle 17 e 17 il tempo si mantiene stabile soleggiato abbiamo avuto tre giorni della merla veramente tre giornate splendide di sole e anche la temperatura pur scendendo sotto zero durante la notte anzi vi ricordo di pulire i vetri prima di partire perché sono insomma prendete il tempo necessario perché c'è la brina e quindi i veti sono opachi comunque durante la giornata le temperature si alzano la mattinata e con sole prevalente poi nubi in aumento con precipitazioni sparse entro sera e c'è anche la neve sotto i millimetri il calo è termico le temperature oscilleranno tra i 3 e gli 11 gradi e ciò detto vediamo le notizie del giorno a partire oggi dal resto del carlino apriamo la pagina e vediamo il tema della sanità sono 14 mila gli over 50 ancora senza vaccino in tutta la regione e martedì scattano le multe da 100 euro quindi attenzione le maggiori resistenze al vaccino sono quelle che vengono evidenziate da una fascia fino a 59 anni l'obbligo però riguarda anche chi non ha completato il richiamo o fatto la terza dose dal 15 febbraio il giornale ricorda che chi sarà trovato sul posto di lavoro senza green pass rafforzato avrà una sanzione che varia tra i 600 e i 1500 euro e su questa tabella sull'inizio pagina vediamo quali quali sono i numeri di tutta la di tutte le province vediamo che pesaro a 153 mila 755 vaccinati over 50 il totale over 50 di 167 mila 879 ne mancano 14 mila 124 abbiamo una posizione che è seconda soltanto a quella di ancona poi viene macerata quindi ascoli è fermo e qui abbiamo una protesta singolare da parte di una signora di 29 anni si tratta di una oss si chiama fortuna siniscalco aveva vinto il concorso per un posto a galantara e si era presentata al posto di lavoro c'è stata un giorno poi si è licenziata vediamo un attimo come evidenzia il giornale questa notizia lavora a galantara solo un giorno impossibile restare in quella rsa la denuncia di fortuna siniscalco di 29 anni dopo aver vinto il concorso pubblico è partita da napoli sua città di residenza alla volta di pesaro ma si è subito licenziata dispositivi di protezione inadeguati e mal conservati ha dichiarato ebbene la situazione che ho trovato ha dichiarato era inammissibile mi sono ritrovata ad entrare in reparto se così si vuol chiamare con un semplice camice chirurgico di tipo sterile per intenderci ma che di sterile non aveva nulla perché non era conservato come si deve secondo appunto la oss i guanti erano in lattice mentre i calzari non erano quelli lunghi che almeno avrebbero coperto di più la mia persona ma quelli che a stento coprivano le mie scarpe e poi ha avuto un sacco nero contenente tre mascherine chirurgiche tre ffp2 tre cuffiette tre camici chirurgici e tre paia di copriscarpe il tutto ammassato dentro la busta e non confezionato singolarmente come si dovrebbe e di fronte a questa situazione questa signora si è licenziata ed è tornata a casa se sono così il se è così il personale insomma c'è da riflettere per come è il paziente ma ovviamente poi la direzione dirà la sua controproposta la sua la sua replica quando il comune dispensa aiuti a pioggia il comune di spesaro come fanno poi anche gli altri gli altri comuni di solito dà degli aiuti finanziari a quelle associazioni che operano nel territorio e sono veramente delle associazioni sussidiarie che completano quello che è l'assistenza che il comune poi non riesce a dare integralmente e sono diversi i contributi sono fondi per decine di migliaia di euro distribuiti ad associazioni società pro loco scuole private che chiedono risorse per esistere in questa tabella vediamo quali sono le società che prendono di più per esempio 40 mila euro prende la fondazione pescheria poi abbiamo altri 40 mila euro per la fondazione rossini e 40 mila euro per ranghard fest poi abbiamo altre cifre importanti come i 31 mila euro all'apa che è l'associazione albergatori e ancora 20 mila euro all'associazione amici della prosa alente concerti all'orchestra sinfonica rossini 23 mila euro e ancora 15 mila euro a il post srl e 25 mila euro a genoma films travolto dalla moto zappa questo un incidente sul lavoro che si è verificato nella giornata di ieri è morto purtroppo un agricoltore stava facendo marcia indietro nel vigneto a candelara ha perso il controllo del mezzo che lo ha schiacciato contro un albero è accaduto ieri questo incidente alle 13 e 20 a perdere la vita è stato gianfranco sorcinelli di 72 anni pensionato residente poco lontano dal luogo della tragedia e sul posto sono poi intervenuti il 118 e i vigili del fuoco oltre alla polizia cui spetta il compito di ricostruire l'accaduto appunto l'uomo è morto perché colpito allo sterno dal manubrio del mezzo agricolo mentre stava facendo marcia indietro richiesta di aiuto dai residenti di via molino mosca qui le auto sfrecciano a tutto gas la careggiata tortuosa oltre che stretta rende pericolosa la circolazione e quindi i residenti insurgono chiedendo provvedimenti veniamo alla pagina di fano c'è stato un incontro tra il sindaco massimo seri e il circolo gramsci che ha affrontato diversi problemi l'incontro con il sindaco sui principali temi del dibattito cittadino ovviamente non poteva mancare quello della fusione tra marche molti servizi e aset spa e poi la valorizzazione dell'ospedale santa croce e poi anche quel mega cantiere quel mega fabbricato che dovrebbe sorgere al porto per realizzare scafi di una lunghezza di 80 metri così proposto dalla società wider e la vediamo qui nel titolo si è parlato anche scusate si è parlato anche della strada della strada che va a Gimarra e quindi quella che è il completamento dell'interquartieri a pian di meleto si è dato l'addio a boscarini costruì un impero da lunano un industriale morto a 68 anni dopo una breve malattia a capo di 16 aziende e 850 dipendenti assegnato l'economia del monte feltro e qui vediamo da maiemi a urbino per riconoscere le eccellenze un gemellaggio nell'ambito del programma made in italy promosso da lingua ideale appunto nella città ducale a questo punto passiamo al corriere adriatico il corriere adriatico sulla pagina di fano si parla del progetto di arredo di piazza marcolini un progetto che era già stato illustrato e aveva sollevato anche delle proteste dei residenti perché l'abolizione dei parcheggi aveva suscitato delle polemiche insomma e poi anche il taglio della degli alberi non era giunto molto gradito piazza marcolini nuove modifiche via i parcheggi quindi si conferma l'abolizione degli posti sosta ma ritorna la fontana ritorna quella fontana che era prima nei giardini di piazza ammiani quella fatta appunto dagli studenti dell'istituto d'arte e appolloni procede il progetto di piazza marcolini nel centro storico di fano gli uffici tecnici hanno introdotto alcune modifiche nulla nulla di stravolgente è stato confermato il taglio degli alberi che saranno sostituiti da altre piante a foglie caduca e poi ridisegnata la geometria dell'aiuole che ora sono più piccole sono previste alcune panchine alcune sedute ed è decentrata la fontana da installare quella appunto che era un tempo in piazza ammiani una volta conclusi i lavori piazza marcolini sarà completamente vietata al transito degli autoveicoli ovviamente anche al parcheggio e c'è l'impegno però di recuperare alcuni stalli della sosta gialla quella riservata alle persone disabili quanto più vicino sia possibile invece i posti normali dovrebbero essere recuperati nella zona attorno ai giardini ai giardini bracci seri rivaluti il biodigestore il futuro di aset oggi non sono le condizioni per una fusione con marche multi servizi e qui vediamo l'articolo che riguarda con questo fondo begiolino diciamo così con l'incontro con il circolo appunto il circolo gramsci un vigile sempre meno urbano in 12 hanno cambiato mansione si parla della relazione che l'assessore al personale alla polizia municipale sarà cucchiarini ha svolto l'altro giorno in consiglio comunale ha parlato del personale su invito di una interrogazione del gruppo consigliare dei cinque stelle un 2021 di spostamenti ha detto 12 vigili che erano appunto assunti come vigili urbani sono stati poi assunti dati ad un altro incarico ad un altro settore dell'amministrazione comunale quindi non fanno più i vigili ma fanno i dipendenti del comune quelli amministrativi per intenderci un 2021 di spostamenti nonostante 23 assunzioni è a rischio l'obiettivo di un agente ogni mille residenti otto hanno traslucato in altri settori del comune quattro sono stati trasferiti in diversi enti bilancio partecipativo un pressing del 5 stelle è una richiesta che i consiglieri panaroni mazzanti e fontana chiedono all'amministrazione comunale affinché ci sia un maggiore coinvolgimento dei cittadini per la conduzione politico amministrativa appunto dell'ente pubblico e passiamo a monteporzio dove c'è stato un episodio di cronaca assalto al giomestor razzia colpi di piccone un furto notturno ai danni del noto punto vendita di ponterio sulla pergolese armati di piccone hanno assaltato un negozio di abbigliamento e calzature appunto sulla pergolese un furto con scasso è stato compiuto l'altra notte a ponterio dove i ladri si sono introdotti con la forza all'ingresso del maxi punto vendita frequentato da una variegata clientela e quindi gli accertamenti ora sono in corso poi vediamo ancora la pagina di senigallia sigilli Alex Shalimar sotto sequestro l'ipotesi dell'incendio che è scaturito e che le fiamme siano partite dall'interno lo storico proprietario Mengucci dice che l'incendio è doloso ma non credo sia legato alla vendita dunque sono stati posti i sigilli che vediamo le fotografie dello stabile annerito dalle fiamme sigilli Alex Shalimar dopo il rogo che ha danneggiato il vecchio ristorante il commissariato ha chiuso i due ingressi del complesso immobiliare dove sono stati affissi dei cartelli con la scritta area sottoposta a sequestro ieri non sono stati effettuati nuovi sopralluoghi ma i vigili del fuoco sono rimasti fino all'ultimo per assicurarsi che non ci fossero più focolai di incendio e quindi le fiamme erano spente completamente due articoli di cronaca a fondo pagina sulla pagina di senigallia l'ultima bravata dei teppisti una bici lanciata in un garage e poi ancora l'appello di un residente che ha trovato la sua macchina danneggiata un appello sui social che ha finalmente scaturito il successo perché chi ha compiuto questo danno si è fatto vivo ha detto sono stato io ed era un vicino di casa un vicino di casa onesto apriamo la pagina sulla pagina di pesaro sempre del corriere e vediamo che si parla della bretella di muraglia questa bretella che dovrebbe collegare l'ospedale di muraglia alla zona sud di pesaro si fanno i primi conti costerà 6 milioni questa nuova arteria nella zona dell'ospedale è stato insediato il cantiere della circonvalazione e sulla carta la strada dovrà essere consegnata per la primavera del prossimo anno del 2023 dunque il cantiere è arrivato finalmente si comincia a vedere qualcosa siamo davanti all'ospedale di muraglia in via lombroso e il primo step dei lavori inizierà proprio da lì per arrivare fino agli orti nella colinetta si vedono già i segni dei primi movimenti sul terreno per la costruzione del tracciato quindi segni positivi e poi giriamo la pagina e vediamo ancora i baby teppisti all'opera telecamere al parco per poter arginare le scorribande sono state installate in via basento dopo i recenti raid vandaligi al centro civico di vismara la video sorveglianza è una prima e concreta risposta da parte del comune per le denunce dei residenti del quartiere di vismara dove più volte il parco e il centro civico sono stati presi di mira dai vandeli e a parlare soddisfatto è il presidente del quartiere claudio salucci dice è una scelta obbligata quella delle telecamere per monitorare il parco dopo diverse ripetute segnalazioni di frequentazioni da parte di baby gang episodi di vandalismi o piccolo spaccio oltre a evitare che si ripetano episodi come quello del 12 gennaio scorso quando la sede del centro civico del quartiere è stata devastata da scorribande di ragazzini e quello che più meraviglia è che siano proprio ragazzini minorenni e qui abbiamo l'articolo della moto zappa che ha causato la morte di questo 72enne nelle campagne attorno candelara inutile ogni tentativo di soccorso teatro scuola una ribalta per gli studenti il progetto è ideato dall'associazione amici della prosa teatro scuola una ribalta appunto per gli studenti ritorna a questa iniziativa il progetto è ideato dall'associazione amici della prosa che organizza ricordiamo il festival nazionale d'arte drammatica di GAD che è la più longeva e prestigiosa manifestazione che si tiene in tutta la regione Marche ed è un punto desiderato molto da tutte le compagnie ammateriali che organizzano commedie, spettacoli teatrali e il festival di Pesaro ha una tradizione veramente molto molto antica addirittura risale agli inizi degli anni 50 a Pian di Meleto, Montefeltro piange Boscarini, si è spento a 69 anni l'industriale di Belforte vero capitano della Central Tubi, perno del sistema Group il sindaco Dini dice è una passione, intraprendenza e capacità è arrivato ai vertici mondiali partendo dal nulla quindi con le sue risorse intellettuali e imprenditoriali Monbaroccio studia il caffè Alzheimer, orti sociali e lab si tratta di un progetto elaborato da un gruppo di studentesse di sociologia un progetto che punta a riqualificare il borgo di Monbaroccio attraverso il sociale ovvero si propone la riqualificazione di un parco cittadino attraverso la bonifica, l'installazione di tavoli e panchine, giochi per bambini e un punto ristoro all'interno di un fabbricato con tre stanze già presente questo diventerà il punto di incontro intergenerazionale per la cittadinanza quindi un progetto di sicuro valore sociale a Urbino si parla della Fano Grosseto e a parlarne è Marinella Topi responsabile provinciale di articolo 1 se salta questo progetto sarà il fallimento di un'intera classe politica ha dichiarato Marinella Topi interviene appunto sull'ultimo incontro che c'è stato a Roma tra l'ANAS, il Ministero e anche i consiglieri regionali della nostra Regione Baldelli è intervenuto perorando la causa delle quattro corsie sembra che questa causa non abbia ancora affatto breccia Marinella Topi dice che bisogna insistere perché c'è veramente necessità di questa arteria e lancia un appello alla Regione perché si lavori allacremente per dare corso alla realizzazione dell'apertura del traforo della Guinza e dell'otto Canavaccio Fermignano per collegarlo con l'altra incompiuta ovvero la bretella per Urbino che ancora rimane una strada che collega il nulla con il nulla ha dichiarato Fermignano ha i lavatoi una luce per ricordare il giorno della memoria organizzato sabato sera a Fermignano è stata fatta una installazione collettiva oggi, domani, sempre per quanto riguarda la memoria il 27 gennaio a Fermignano è stato commemorato sabato 29 gennaio dal Comune, dall'Ampi, Val Metauro luoghi comuni, l'associazione Il Bascello l'appuntamento è stato una chicca dice il giornale e gli organizzatori sono stati molto attenti seguendo alla lettera le misure di contenimento della pandemia insomma il virus non ha influito nella decisione di ricordare con determinazione e partecipazione questo avvenimento, questo evento luttuoso per l'intera umanità veniamo allo sport siamo ormai in conclusione beh, ieri è stata una giornata sostanzialmente positiva per le squadre di calcio della nostra provincia Gucci fa volare la visse nella zona sogno e vediamo anche che cosa dice il Corriere Adriatico questo titolo è quello del resto delle Carlino invece il Corriere Adriatico dice con Gucci è una visse di lusso ebbene il risultato, ve lo dico subito è stato Vispesaro 1, Pistoiese 0 l'attaccante segna la rete dell'ex con un colpo di testa e inizio ripresa e condanna la Pistoiese sono tre punti molto importanti questi acquisiti dai biancorossi anche in un'ottica playoff centrati nonostante le diverse assenze l'attaccante affonda la Pistoiese in avvio di ripresa poi i biancorossi rischiano ma portano a casa la vittoria che vale il settimo posto in classifica e vediamo il Fano Calcio che cosa ha fatto? ebbè è data bene anche per il Fano Calcio alla ripresa del campionato sul resto del Carlino rigore all'ultima curva torto risalva il Fano tutto nei minuti finali il Fano era andato sotto di un punto però c'è stato questo salutare rigore che ha portato la squadra in parità la Vastese è andata in vantaggio con Alessandro poi il pareggio dell'attaccante Tortori al terzo minuto di recupero risultato giusto insomma proprio alla zona Cesarini risultato giusto commenta il resto del Carlino vediamo cosa dice invece il Corriere Adriatico il Fano ci mette il cuore Tortori pareggia al 94esimo succede tutto nel finale segna prima la Vastese poi il rigore che rialza il Granata in pieno recupero arriva il Penerti che evita la beffa ora testa al recupero contro il Porto d'Ascori la sconfitta sarebbe stata una ingiustizia ha dichiarato l'allenatore catalano prestazione super siamo in crescita e questo fa ben sperare per il futuro ebbene che con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani e per le notizie del giorno al Tg di questa sera di Fano TV alle ore 20.30 condotto da Simona Zonghetti questo è tutto a risentirci e buona giornata grazie a tutti